Gli artisti di Arteca animano il viale con musica ed esibizioni teatrali. Nelle viuzze della zona monumentale a tarda sera sono aperti i laboratori di artigiani, esperti nell'arte del ricamo e nella realizzazione in miniatura del patrimonio di Alberobello, i trulli. Sto lavorando la pietra calcarea, questa è la pietra tipica del nostro territorio e della nostra zona, praticamente la stessa utilizzata ad operata per fare i trulli. Sembra di respirare già aria di Natale lungo il percorso puntellato da oltre 40 casette in legno, dove si mostrano e si degustano le eccellenze del territorio a partire dal vino primitivo. Benvenuti a Loving Puglia, prima edizione. Obiettivo del comune? Far sì che la comunità Alberobellese si riveli capace di mettere in mostra le eccellenze non solo della nostra Alberobello ma anche poi dell'intera Puglia. Una a tre giorni con produttori di vino, presenti ben 35 cantine con 80 etichette e 25 sommelier. Il meglio della gastronomia con grandi chef, angoli di show cooking, spazi di shopping, folklore, volontariato e associatonismo, turismo e cultura con musei aperti e una curiosità. La moneta per ogni acquisto a Loving Puglia, il tannino, insieme oltre un centinaio di operatori. Ma non è stato semplice però sicuramente è stato molto bello perché dopo aver spiegato bene l'idea che avevamo per Alberobello tutto è diventato più semplice e la gente ci ha seguito, soprattutto i commercianti. Loving Puglia tornerà nel 2015 con nuovi protagonisti, ad aprile sarà il rosè, a luglio il vino bianco.